L'ordine famigliare, io non sono lavorato, non sono lavorato, però mi piaceva molto l'antidizzazione del teatro, il teatro di Caparelli ha molto a che fare con questo Consiglio Comunale, perché è soltanto per dire che la gente è soltanto, e del cuore di un giallo dei figli di pazzo dell'Udc, quanto accoravano a peggio e a questa ragionanza, per dire votate il candidato in un'opposizione forse, ma era dell'aria che Capato sarebbe stato candidato. Però una domanda, una questione, e chi Capato? Beh, fate capire, questo potrebbe capire, c'è qualche esigenza personale del Consigliere Capato di fare il vicepresidente, c'è qualche esigenza vostra ad occupare una posizione contro il Consigliere Capato? Io voglio capire, dal Consigliere Capato, dal Consigliere Capato, come va in cui rispetto a un'indicazione della maggioranza dell'opposizione, perché il Consigliere Capato, come va in cui rispetto a un'indicazione della maggioranza dell'opposizione, non c'erano tanti dati contro il Consigliere Capato, ma io sono in Spariglia, sono in Spariglia, sono in Spariglia. Si, allora, volevo capire qual è la nostra situazione, cioè, cui si propone come il vicepresidente, perché ha un progetto politico da portare, ma no, un progetto che c'è in un'indicazione di un'indicazione di un'indicazione di un'indicazione di un'indicazione di un'indicazione. Io padre non ti ha trasferito, non ti spieghiamo, non ti trasferisco. Non ti trasferisco, non ti trasferisco, non ti trasferisco. Non ti trasferisco, non ti trasferisco, non ti trasferisco. Non ti trasferisco, non ti trasferisco, non ti trasferisco. Non ti trasferisco, non ti trasferisco, non ti trasferisco. Non ti trasferisco, non ti trasferisco. Non ti trasferisco, non ti trasferisco. Se questa è l'animatura politica, morale, etica di questo Consiglio, non ti trasferisco. Non ti trasferisco, non ti trasferisco, non ti trasferisco. Non ti trasferisco, non ti trasferisco. Quindi, ritengo irriscibibile, soprattutto dopo un concetto di due votazioni, a tale non a confine, ritengo irriscibibile la candidatura di Capato. Non ti trasferisco, non ti trasferisco. Non ti trasferisco, non ti trasferisco. La candidatura di Capato naturalità, la candidatura mondiale di questo Vice Presidente. Quindi, mi trasferisco al Presidente del Consiglio, se lui... Io vi ho fatto la domanda, se lui vuole ripartire, deve fare una presentazione, se ci sono candidato di... della... dell'opposizione. Ma adesso, quindi il mio voto resta al consigliere del prego. Grazie consigliere del prego. E' chiuso a dire che il consigliere del scoccio è la vostra. E' il tutto? 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 E' il tutto?